Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Star Wars The Clone Wars, gioco adattato al sistema, al Pandemic System, che ormai è famoso ed è una vera e propria sandbox per usare qualsiasi tipo di ambientazione o anche di saga famosa, appunto come nel caso di Star Wars, edito in Italia da Asmod Italia che io ringrazio di cuore immensamente, come sempre, per la copia fornita. Un gioco da 1 a 5 giocatori, ovviamente un gioco cooperativo, che ha anche la variante per essere giocato in solitario usando due eroi invece che uno. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Star Wars The Clone Wars, adattato al sistema del Pandemic, è un gioco che ci catapulta durante le guerre dei cloni nell'ambientazione appunto di Guerre Stellari di Star Wars, che è una delle mie ambientazioni preferite, parentesi, non a caso, anche il nickname Coridan, come ho detto diverse volte, l'ho preso da un personaggio che appunto creai per la saga di Star Wars nel vecchio DC System, nel GDR. E come gioco cooperativo, sempre nello stile di Pandemic, ci vede giocare o in solitaria, guidando due eroi, o collaborando fino a un massimo di 5 giocatori per cercare di salvare tutta quanta, come dice all'inizio, tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana, e i pianeti che vanno a comporre sia l'orlo esterno che l'orlo intermedio e l'orlo interno. Quindi, andando a giocare, ovviamente, nell'epoca delle guerre dei cloni, avremo personaggi come ad esempio Obi-Wan, Anakin, Ahsoka Tano, ma anche altri comunque molto famosi del Consiglio dei Jedi, come ad esempio la Maestra Luminara o il Maestro Yoda. Mentre invece i villain che andremo a combattere saranno il Conte Dooku, Darth Maul, Ventress, che appunto è l'allieva, una degli allievi del Conte Dooku, perché anche Qui-Gon Jinn lo era, e poi abbiamo anche il generale Gribus, che tra l'altro è il mio preferito perché è una figura veramente spettacolare nella saga. Dovremo muoverci per la mappa per cercare di risolvere degli obiettivi e delle missioni appunto nel buon stile che Pandemic, un altro capolavoro, ci ha insegnato. Avremo la mappa con i vari pianeti collegati da delle rotte e noi dovremo, avremo 4 azioni per ciascun round e dovremo fare la stessa azione più di una volta o anche 4 azioni separate. E le azioni saranno spostarci, pescare delle carte, ovviamente spostarci da un pianeta collegato ad un altro, pescare nuove carte che andranno a comporre la nostra mano, ma non soltanto, saranno anche i nostri punti ferita e la nostra mano può essere composta a massimo da 7 carte. Ne possiamo anche avere 10 in mano, però a fine del turno devono sempre essere 7, quindi le altre devono essere scartate. E ogni volta che durante un combattimento subiremo un danno, andremo a scartare una delle carte che abbiamo in mano. Ci si muove sui pianeti, quando si va sul pianeta bisogna liberarlo dall'occupazione dei separatisti. Nell'occupazione dei separatisti il pianeta potrebbe avere dei droidi da battaglia dei separatisti, delle navi a difesa del pianeta e nel caso anche un villain, un malvagio, quindi nel caso ci potrebbe essere il conte Dooku o Ventress. Quando arriveremo sul pianeta dovremo andare a tirare i nostri dadi d'attacco per le capacità di attacco del personaggio, ogni personaggio è diverso, per le abilità del personaggio e anche per altre carte appunto di quelle che vi ho detto a poc'anzi abbiamo pescato. Si vanno a tirare un tot di dadi per tutte le carte che abbiamo usato, più abilità e quant'altro, e sui dadi ci sono due risultati, vari colpito e varie ferite. I colpito sono colpi che voi mandate ai nemici, i feriti sono invece le ferite che voi subite, quindi nel caso sul pianeta ci siano due droidi, ciascun droide ha un punto ferita. Le navi in orbita ne hanno due, i villain di solito ne hanno almeno tre, quindi nel caso su un pianeta ci fosse un droide, una nave da battaglia in orbita e un villain, saranno tre punti feriti per il villain, due per la nave e uno per il droide. Per liberare il pianeta serviranno almeno sei colpito, magari tirando quei sei colpito escono anche due ferite, noi li abbiamo sconfitti tutti, ma ci siamo presi due ferite. E ripulire i pianeti serve per non far conquistare tutta quanta, tutti quanti i settori, tutta quanta la galassia ai separatisti, perché se loro dovessero conquistarla tutto quanto, e quindi tipo Pandemic, dovessimo mettere in campo altri droidi da battaglia, dei separatisti e non ne abbiamo più nella scatola, perché l'abbiamo schierati tutti, inizierà a scalare ovviamente la minaccia. Minaccia che è arrivata fino in fondo, ci farà perdere la partita. Quindi non soltanto dovremo completare le missioni che troveremo in giro per i pianeti, ma dovremo soprattutto stare attenti che un pianeta non sia troppo pieno, perché quando su un pianeta ci sono tre droidi, il quarto fa occupazione. E ogni volta che c'è occupazione, il livello di la gravità della minaccia va a salire, e una regola ci dice che prima di poter fare la missione, bisogna per forza sconfiggere la flotta che è in orbita e il villain. Se ci sono dei droidi, ovviamente la zona va ripulita, però quando si va ad attaccare, prima di tutto, bisogna distruggere la flotta in orbita, perché la flotta difende le truppe in terra. Quindi prima bisognerà fare i due danni per distruggere la flotta, e poi potremo attaccare le forze che sono a terra, ovvero i droidi e i villain. Il regolamento è molto facile, e poi ve l'ho detto, è un gioco che si gioca bene, sia in cooperativa che in solo. In conclusione, Star Wars The Clone Wars col Pandemic System è un gioco per me, sì, assolutamente per tutti. Non soltanto per tutti i fan della saga di Guerre Stellari, ma anche per gli amanti del gioco di Pandemic, perché è una bella variante. Guerre Stellari e ancora una volta Pandemic, il sistema ci fa vedere che ci puoi ambientare tutte le ambientazioni e i contesti che voi ce lo potreste ambientare in Seconda Guerra Mondiale, magari togliendo varie parti dell'Europa ai nemici, oppure semplicemente ci potresti ambientare anche uno Star Trek, appunto uno Star Wars, o anche, perché no, un Signore degli Anelli e quant'altro. È il classico regolamento molto semplice che si adatta bene a tutti quanti i giochi dove ci sia molta azione e quelle ambientazioni come Guerre Stellari, cioè veramente costellate di battaglie, conquiste e difesa. Il contenuto all'interno della scatola è molto bello, secondo me, perché le miniature sono sì piccoline a scala, ma sono ben caratterizzate, sono modellate 3D veramente bene e sono anche un piacere alla vista e poi diciamo che i personaggi più importanti della saga di Clone Wars, che spero abbiate visto le serie su Disney+, che sono veramente bellissime, sono riprodotti anche fedelmente, quindi è un gioco che quando apri la scatola è proprio spettacolare, è anche da vedere se ti invoglia subito a fare una partita. Io ringrazio Osmo d'Italia per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito della Gioco Libreria Semola e lo trovate pallino rosso finito, oppure proprio Star Wars The Clone Wars Pandemic non lo trovate, non c'è nel catalogo, magari non è stato inserito, proprio non c'è, mandate una mail a Corrado al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma anche se è reperibile fuori mercato. Quindi anche se non ce l'ha in lista, lo ha finito, chiedetelo lo stesso. Per spese superiori a 79 euro, consegna con corriere in 48 ore, è gratuito in tutta Italia, isole e anche in Europa, quindi anche fuori dalla nazione, e il servizio è sempre eccellente. Quindi ricordatevi, importantissimo, usate sempre il codice discount CORIDAN7 per avere oltretutto uno sconto del 7% su tutti gli acquisti dalla Gioco Libreria Semola. Io ringrazio Asbo d'Italia e Star Wars The Clone Wars Pandemic System, ovviamente passate appena i voti, se vi piace il sistema di Pandemic, e se stavate cercando anche soltanto una nuova variante per magari continuare a giocare al Pandemic System che vi piace molto, l'avete trovato assolutamente a portata di mano e poi in un'ambientazione che è sempre bella e affascinante come la saga di Star Wars. Fatemi sapere cosa ne pensate ed è veramente un bel gioco. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!